Le vere passioni hanno un loro istinto molto preciso. Mettete un piatto di frutta davanti a un goloso. Non si sbaglierà. Sceglierà anche ad occhi chiusi il frutto migliore. La natura è infallibile. E il modo con cui si manifesta la natura in questi casi è innamorarsi al primo sguardo. In amore il primo sguardo è semplicemente e precisamente una seconda vista. Onore de Balzac.